Oggi ripassiamo Goldoni. Goldoni nasce nel 1707 a Venezia. È figlio di un medico, segue il padre in giro per l'Italia e per volere del padre si avvia agli studi giuridici che poi lo porteranno a svolgere per alcuni anni il lavoro nella cancelleria criminale del porto di Chioggia. Ma la sua vera passione è il teatro e infatti Goldoni è l'autore della riforma teatrale in Italia. Vediamo di cosa si tratta. Nel 1734 egli incontra per caso il capocomico Imer con il quale stringe un patto. Vedi che qui ti do al solito uno schema che ti consiglio di copiare carta e penna mentre mi ascolti per memorizzare al meglio tutto quello che diremo. Come vedi il nostro schema è diviso in quattro parti e adesso affrontiamo quella in blu, la prima. Allora dicevamo nel 1734 egli incontra il capocomico Imer. Devi sapere che Goldoni è sempre stato affascinato dal teatro. Quando era ancora un adolescente un ragazzo era fuggito addirittura dal collegio di Rimini per seguire una compagnia di attori fino a raggiungere Venezia e quindi ricongiungersi alla madre. Queste compagnie di attori, dette compagnie della commedia dell'arte, erano appunto guidati da un capocomico, nel nostro caso Imer, e si muovevano per le piazze delle varie città d'Italia o anche di corte in corte e anche all'estero portando degli spettacoli improvvisati. Un teatro di improvvisazione cioè basato su un canovaccio, diciamo un plot, una trama di massima e poi svolto sul palco improvvisando le battute. Ciascuno di questi personaggi della commedia dell'arte erano tipi fissi, stereotipi, maschere e infatti dalla commedia dell'arte derivano le maschere italiane che erano caratterizzate anche da un dialetto regionale. Pensiamo a Pulcinella, il napoletano o al servo furbo Arlecchino e ti renderai anche conto che è facile vedere una continuità tra queste maschere regionali e gli antichi stereotipi del teatro latino. L'affamato servitore sempre in cerca di qualcosa da mangiare che è Pulcinella nella commedia dell'arte per esempio è una continuazione del personaggio del parassita della commedia latina come il servo Scallitus, il servo furbo è l'arlecchino della commedia dell'arte. Ecco gli attori interpretando sempre la stessa maschera o lo stesso personaggio diciamo che si specializzavano, si creavano un loro repertorio a seconda dei gusti del pubblico e alla fin fine riproponevano sempre le stesse gag e le stesse battute. Il fatto che si spostassero da una città all'altra garantiva il successo di pubblico. Ma quando nel 1734, torniamo al nostro schema, Imer decide di accettare un contratto in un teatro stabile, il teatro del San Samuele, tieni conto che i teatri stabili nascono come un'impresa borghese. Nel 600 già ne abbiamo visti all'estero, pensiamo al Globe di Shakespeare che era finanziato dalla corte direttamente dal re. Nella nostra Venezia dei primi decenni del 700 c'erano alcuni borghesi che avevano deciso di investire nel teatro, quindi creavano un teatro stabile e poi facevano contratte a delle compagnie. Imer dunque prende questa commissione al San Samuele. Ha bisogno dunque, perché il pubblico continua a venire spesso a vedere i suoi spettacoli, di cambiare trame continuamente e chiede l'aiuto del brillante appassionato di teatro Goldoni. Comincia dunque la cosiddetta riforma del teatro. Negli anni 1734-47 Goldoni attua questa riforma che praticamente consiste nel passare da un teatro di improvvisazione, quale era quello della commedia dell'arte, a un teatro scritto dove c'è un copione e dove l'autore, Goldoni in questo caso, ogni volta inventa una vicenda nuova, ogni volta scrive le battute dei suoi personaggi e sostituisce dunque alle trame un po' raffazzonate e semplicistiche dei canovacci, sostituisce un intreccio denso, sempre nuovo, pieno di colpi di scena, movimentato e affascinante e sostituisce anche alle maschere dei personaggi più realistici e più complessi, grazie alla possibilità di scrivere le loro battute e quindi creare delle psicologie più realistiche. In questa riforma, vedi la freccetta qua sotto, Goldoni stesso, il quale in vecchiaia scriverà una propria autobiografia, ma anche nell'introduzione all'edizione delle sue commedie, egli scriverà che in questa riforma dunque ha due maestri e gli segue due maestri, il mondo e il teatro. Dal mondo egli trae i soggetti, cioè le storie, ma anche i personaggi, che dicevamo ormai non saranno più le maschere, ma i personaggi della città borghese, quindi i borghesi, in cui il pubblico potrà anche identificarsi. E la seconda scuola, la seconda maestra, diciamo così, è il teatro. Il teatro offre a Goldoni non solo, diciamo così, il ritmo, la sensibilità verso i gusti del pubblico, la capacità di creare delle commedie dove ci sono molti movimenti, molta vivacità nelle battute, nel movimento scenico e nelle trovate, ma soprattutto anche fa tener conto a Goldoni delle concrete esigenze dei suoi attori, dei suoi collaboratori. Egli infatti attuerà questa riforma gradualmente, cioè non pretenderà, capiamoci, che gli attori abituati a improvvisare, improvvisamente si adattassero a impararsi tutte le battute a memoria. Egli pian piano, prima scrive dei canovacci, poi comincia a scrivere, per esempio, la parte del protagonista. Imer era un Arlecchino e poi Sacchi sarà un altro Arlecchino della Compagnia del San Samuele. E proprio la parte di Arlecchino, per esempio, nel 1945 viene scritta per intero, mentre gli altri personaggi improvvisano. Il Momolo Cortesanna è un'altra appunto commedia dove il protagonista è ancora una maschera, sempre Arlecchino dunque. Vedi che anche in questo caso il passaggio dalla maschera ai personaggi realistici della città borghese viene fatto gradualmente. Rimangono, vengono mantenute alcune cose della Commedia dell'Arte e mano a mano si porta, si fa la transizione verso un teatro dove non ci sono più maschere e dove il copione è tutto scritto. Questa transizione si attua con la Donna di Garbo del 1747, che è la prima commedia interamente scritta. Arriva il successo. Dal 1748 al 1753 Goldoni stringe un altro contratto con il Sant'Angelo che gli permetterà di smettere di occuparsi di teatro, diciamo così, da dilettante, di lasciare il suo lavoro e dedicarsi interamente al teatro. Il capocomico stavolta è Medebach, la riforma teatrale è attuata ed ha un grande successo del pubblico. E questa è la stagione delle commedie più belle, di cui citiamo La Locandiera del 1752 e La Bottega del Caffè del 1750. E citiamo anche la famosa scommessa con il pubblico. Nel 1750 Goldoni scommette con il pubblico che in un anno egli scriverà e metterà in scena 16 commedie di successo e ci riuscirà. La sua produzione è veramente immensa e noi possiamo citare soltanto qualche titolo. Ecco, nelle commedie di questa fase del Sant'Angelo, di questa fase così piena di successo, così matura, noi vediamo anche il pensiero illuminista e borghese di Goldoni, che è comunque uomo del suo tempo, del Settecento. In cosa si vede il suo pensiero? Beh, nel fatto che i suoi protagonisti sono dei borghesi, dei borghesi che amano il loro lavoro, l'onestà, che hanno antipatia per i privilegi e per i nobili che svolgono invece una vita parassitaria. E spesso i nobili vengono presi in giro nelle commedie, basti pensare al Marchese e al Conte della Locandiera, oppure al personaggio di Don Marzio della Bottega del Caffè. Nobili sfaccendati che non fanno altro che vantarsi dei loro nobili natali, di pretendere privilegi e attenzioni speciali, ma che di fatto non danno un contributo alla vita della città, anzi se possono fanno perdere tempo a chi lavora e mietono zizzania e intrighi a destra e a manca, perché hanno una vita veramente, ecco, un ruolo parassitario. Invece, ecco, il borghese è anche onesto, sa fare il proprio interesse, però è anche generoso, sa fare del bene quando serve. In questo proprio vediamo il personaggio di Ridolfo della Comedia del Caffè, che è veramente questo mito positivo del borghese, onesto ma anche buon amico, generoso, capace con la sua saggezza pratica, col suo buonsenso, di aggiustare le cose, di far conciliare gli affetti con anche l'interesse della borsa e, insomma, questo buonsenso pratico che garantisce una vita serena ed appagante. Che poi anche il buonsenso della Locandiera, che gioca a sedurre il cavaliere di Ripafratta, ma poi, finito il gioco, sa fare delle scelte sagge ed assennate, sia per la sua locanda, per i suoi affari, che per la sua libertà personale di donna indipendente libera, imprenditrice, padrona in casa sua. Ecco, non bisogna pensare che il suo pensiero illuminista e che esalta, insomma, la classe borghese si traduca però in un pensiero rivoluzionario. Goldoni ama del borghese la sua capacità di stare al proprio posto, di creare equilibrio anche tra le varie classi sociali. Il borghese sa trattare con tutti, col popolo, col nobile, col rispetto ma senza servilismo e sa stare al suo posto, garantendo una armonia sociale. arriva il periodo invece meno felice di Goldoni, 1753-1762, terzo periodo, qui egli lavora al San Luca, oggi si chiama Teatro Goldoni. Di questo periodo vediamo un po' una crisi, sia per colpa della concorrenza, ecco lo vedi sotto dove c'è la freccia nera sotto il riquadro in rosa, sia perché la concorrenza comincia a portargli via del pubblico e il pubblico, sempre affamato di novità, un po' lo tradisce. Il Gozzi, il Chiari, autori che lavoravano per altri teatri di Venezia, proponevano un teatro fiabesco o esotico con musica, a volte tornavano anche all'improvvisazione e quindi il fatto che il pubblico gradisse questi altri spettacoli indispettisce molto Goldoni perché si trattava veramente del contrario di quello che lui aveva cercato di fare, cioè un teatro che riflettesse il mondo e che fosse moderno e realistico. Egli cercherà anche lui di adeguarsi alla nuova moda scrivendo nel 1753 la trilogia persiana che è una sorta di fiaba ambientata appunto in Persia, storia d'amore, di intrighi, ma insomma non era nelle sue corde e non ebbe neanche il successo sperato. Torna così alle sue commedie di ambientazione borghese. Del 1761 è la trilogia della villeggiatura dove appunto abbiamo tre commedie che parlano prima dei preparativi alle vacanze. Anche la villeggiatura, cioè l'uso di andare in vacanza nei mesi estivi, in campagna, fuori città, era una moda che cominciava proprio alla metà del 1700. Vediamo dunque i preparativi che lui intitola le smanie della villeggiatura, poi la villeggiatura appunto e infine vedremo il ritorno dalla villeggiatura. In questa trilogia, guarda alla parte sotto la freccia nera, egli comincia a criticare i borghesi, cioè il borghese comincia ad essere rappresentato per alcuni difetti. Innanzitutto la sua smania, pensiamo alle smanie per la villeggiatura, la sua smania di andare in villeggiatura non tanto perché desidera un riposo dal suo lavoro, ma perché vuole dimostrare di essere facoltoso, di essere ricco, capite? Leonardo e Vittoria sono i personaggi protagonisti di questa commedia, sono fratello e sorella e Vittoria assolutamente vuole affittare una villa fuori città, vuole rifarsi il guardaroba, vuole affittare stoviglie d'argento e roba pregiata per fare feste e ricevimenti estivi e con questo non tiene conto delle reali possibilità economiche e quindi si espone con debiti che vanno ad ammiucchiarsi ai debiti già come dire già presenti nella incauta gestione dei due fratelli. Poi vedremo che durante la villeggiatura emerge quindi il primo difetto è proprio questa smania di far vedere che uno ha i soldi, questa voglia di fare buona impressione sugli altri, di ben figurare appunto come dice Vittoria. E poi vedremo le storie d'amore, Leonardo si innamorerà di Giacinta, Vittoria di Guglielmo durante la villeggiatura, vediamo i loro giochi, si gioca ad azzardo, vediamo degli altri personaggi di questa società borghese così competitiva e pettegola, altri due difetti, la competitività un po' rientra in questa smania di far vedere i propri soldi. L'altra, il pettegolezzo, durante la villeggiatura si gode a invitare alla propria tavola chi ha la lingua più lunga, le male lingue perché così non potranno parlare male di noi in altre case, in altre compagnie e noi stessi ci potremmo divertire a sentire pettegolezze e malignità su vicini e conoscenti. Ecco un altro difetto di questa borghesia. Infine vediamo altre commedie che criticano i difetti dei borghesi. Ah, il ritorno della villeggiatura ovviamente sarà il momento della triste pagamento dei conti e dei debiti. I due fratelli ritornano a Livorno con i rispettivi insomma innamorati e poi si trasferiranno a Genova dove alla fine si costituirà il lieto fine, Leonardo sposerà Giacinta e Vittoria sposerà Guglielmo. Dicevo un'altra commedia dove vediamo il difetto, un altro difetto del borghese è quella del 1760, i rusteghi. Vedete i due pallini sono quelli che parlano della critica dei difetti borghesi dunque nel nostro schemino rosa. Bene, i rusteghi che cosa hanno di difetto? Hanno appunto l'essere rozzi. Viene criticato in questo caso del borghese la sua tendenza a considerare soltanto i soldi, i beni materiali e il lavoro come questioni importanti e a trascurare gli affetti e le relazioni umane. I rusteghi per esempio è una commedia che parla di padri di famiglia, capi famiglia borghesi, sì lavoratori che hanno saputo costruirsi una solida posizione economica ma che sono duri e insensibili ai sentimenti dei propri figli. Sono dei padroni in casa, mantengono moglie e figli e pretendono di essere obbediti senza avere questa capacità di stabilire relazioni. Ecco questa durezza non emergeva nel periodo del Sant'Angelo e invece nel periodo del San Luca emerge questa rozzezza nei rapporti, questa insensibilità, questo materialismo del borghese che appunto viene, possiamo dire, questa rustichezza. Emerge invece un altro personaggio positivo che è l'uomo del popolo, pescatori, trasportatori del porto di Chioggia, gente poverissima. Sono i protagonisti delle cosiddette commedie di ambiente popolare. Nel periodo del San Luca abbiamo tra le più famose il Campiello del 56 e le Baruffe Chiozzotte. Ecco partiamo dal Campiello. Il Campiello è la piazzetta del quartiere povero della città. Campo è la piazza grande, Campiello è la piazza piccola, quella appunto dei quartieri più poveri. Ecco in questa piazzetta si intrecciano le vicende e la vita dei personaggi del popolo. Le donne in particolare che escono di casa per lavare i panni, per rammendare le reti, parlano tra di loro dei loro problemi, si fanno forza l'un l'altro, a volte litigano certamente, ma emerge in essi quella umanità, quel calore, quella capacità di solidarietà, quella spontaneità, verità, autenticità nei rapporti che ormai Goldoni non vede più nei borghesi e che ritrova dunque in questi personaggi. Personaggi del Campiello, Gasparina che alla fine verrà sposata da un ricco cavaliere, Lucietta che alla fine potrà sposare Anzoletto, mentre la giovane Orsola potrà trovare la felicità nel figlio Giorgetto, Zorzetto della vecchia Agnese. Anche le baruffe chiozzotte sono una commedia d'ambiente perché l'ambiente è il porto di Chioggia. Vedete anche qui si dice di l'ambiente perché è un ambiente in cui alcuni personaggi, senza che ci sia un protagonista, una vicenda principale, intrecciano i loro problemi, i loro sentimenti e le loro storie. Nelle baruffe chiozzotte, anche qui l'intreccio è un po' amoroso, arriva un nuovo trasportatore di merci, il giovane e poi anche Lucietta e questo scatena ovviamente l'ira di Titta che appunto è il fidanzato di Lucietta e di Beppo, fratello, scusate fidanzato di Orsetta che è la sorella, la sorella di Lucietta se non sbaglio, la sua amica. Bene, in questo ovviamente triangolo di corteggiamenti e di gelosie si scatena una zuffa, una baruffa appunto, chiozzotta di Chioggia che finirà davanti al tribunale dove però alla fine tutto tornerà a posto, si riconcilieranno gli animi e dai coltelli si passerà agli abbracci e ai fiori d'arancio alle nozze. Stanco delle difficoltà degli ultimi anni, Goldoni nel 1763 lascia Venezia e si trasferisce a Parigi dove è stato chiamato dalla Commedia Italienne, cioè dal teatro italiano, la commedia dell'arte che aveva stanza a Parigi. Bene, qui egli subirà un'amara delusione perché a Parigi c'era già un teatro letterario scritto che era quello della commedia di Molière, era secentesca. La Commedia Italienne invece piaceva ai francesi così com'era. I francesi andavano alla Commedia Italienne non per riflettere o per seguire intrecci complessi e realistici ma per vedere balletti, canzoncine e le solite gag delle maschere dialettali italiane. Egli quindi tentò di ricominciare da capo con la sua riforma ma ebbe poco successo. I canovacci andavano benissimo a Parigi ed egli non ebbe grosso successo. Riuscì a scrivere qualche commedia, per esempio Il burbero dal buon cuore o Il ventaglio, ma abbandonò dopo un po' questa attività. Si ritirò dunque a fare il maestro d'italiano alla corte di Versailles e scrisse le mémoire, cioè le proprie memorie, l'autobiografia. Ma la rivoluzione francese gli tolse anche questo reddito ed egli morì in povertà a Parigi. Ecco, a parte quest'ultima parte della commedia italiana e di Goldoni maestro d'italiano, concludo con una piccola notazione sulla lingua. Goldoni ha dato grande vivacità alla lingua italiana, ha, come dire, l'ha usata in senso realistico, ritagliandola proprio così come faceva con i personaggi e ritagliando anche la lingua sugli attori che aveva a disposizione. Ricordatevi, Goldoni è un grande uomo di teatro, a volte scrive proprio tenendo conto degli attori che dovranno interpretare un certo personaggio, glieli cuce addosso e anche la lingua gliela cuce addosso. Egli sa usare l'italiano, la locandiera o non so, anche la bottega del caffè sono in italiano, ma sa usare anche il dialetto. Il dialetto veneziano è usato, in moltissime commedie, proprio in senso realistico, proprio perché il pubblico si riconosca nei personaggi e ancora di più è usato in senso caratterizzante nelle commedie popolari, per esempio il dialetto chioggiano delle baruffe chiozzotte. Goldoni è un uomo di teatro, è un uomo che ha saputo rappresentare l'uomo, è saputo ben usare le possibilità espressive del teatro, ha fatto divertire ma ha fatto anche riflettere sulla grandezza e sulla debolezza della società in cui viveva. Egli è veramente ancora attualissimo e le sue commedie vengono tuttora rappresentate. Non è poco.